Si chiama Messaggi, il nuovo CD dei Ciuca, duo acustico composto da Tiziana Stefanelli e Riccardo Paci, che pone al centro i diritti delle donne nella lotta alle forme di violenza. La scelta del titolo nasce dalla necessità di far capire quanto l'uso delle parole sia potente e quanto altrettanto importante sia il bisogno di utilizzarle nella maniera corretta. Porteremo nel videoclip un messaggio estremamente importante per le donne oggetto di abuso che ancora non hanno trovato il coraggio di fare il grande passo per tutelare la loro vita e cioè che la violenza va denunciata, non solo rivolgersi ai centri e alle associazioni in cui trovare aiuto e sostegno ma sapere, far conoscere che oltre all'ospedale in cui ci si può rivolgere durante le 24 ore ci sono anche le istituzioni e quindi il commissariato della Polizia di Stato e il comando dei Carabinieri. 24 ore aperte e quindi è un invito a queste donne. All'interno del CD tre brani, tra i quali Io meno te, che racconta un momento di vita quotidiana all'interno delle mura domestiche, parlando del rapporto disturbato che intercorre fra la coppia quando anche i momenti più quotidiani diventano operazioni pericolose in presenza di un uomo violento pronto a scattare per qualsiasi motivo e arrivare alle mani. Il brano verrà accompagnato da un videoclip che si girerà a Fano dal 3 all'8 giugno e verrà caricato nel web grazie alla piattaforma Vevo. C'è poi il volo degli angeli, pezzo che parla della tutela della maternità mentre il terzo, il canto che non so, è rivolto alla tutela dei diritti umani in generale. Il ricavato del CD sarà devoluto ad un'associazione nazionale che tutela le donne da violenze e abusi. Il video verrà registrato nelle più sensibili location storiche di Fano e vedrà anche la partecipazione di diverse personalità di spicco che hanno sostenuto e collaborato a questo video. Per esempio ecco lo stilista Mario Orfei che è molto molto sensibile alla violenza di genere e che ci ha sostenuto donandoci gli abiti per le registrazioni del videoclip.